Il Vice Ministro Bubico prima citava il decreto antiterrorismo, tanto per dare qualche soluzione. Cosa si può fare per poter contrastare questo fenomeno, che è un fenomeno globale, per cui si erano risposte ovviamente globali. Il decreto del Governo è stato un decreto importante, ma assolutamente insufficiente. Assolutamente insufficiente perché, ad esempio, prima si citava la superprocura antimafia e antiterrorismo. Cosa giustissima, cosa assolutamente giusta, ma nel momento in cui io creo una superprocura e quindi accentro al Procuratore Nazionale Antimafia anche i poteri antiterrorismo, bisogna dare funzioni, bisogna dare risorse, mettere questa superprocura nelle condizioni di operare. Ancora, e poi concludo, la risposta del Governo tunisino ieri è stata chiara, immediata. Ha chiuso 80 moschee perché ritenute pericolose. In Italia invece si va nella direzione esattamente opposta. Ad esempio, Regione Lombardia ha approvato una legge per disciplinare i luoghi di culto nel nostro paese, il Governo l'ha impugnata. A me piacerebbe che, ad esempio, il finanziamento delle moschee fosse tracciato. A me, ad esempio, piacerebbe, c'è una proposta di legge in tal senso da parte della Lega, che vi fosse un registro, un album, un albo degli imam, in modo tale che, come io so chi è il parroco del mio paese, io possa sapere anche chi è l'imam della tal moschea. O ancora, mi piacerebbe che le prediche fossero tenute in italiano. E questo voi lo dite da molto tempo, sì. Io ho la netta impressione che da parte del nostro Governo si potrebbe fare molto di più. Il Ministro Alfano aveva annunciato settimana scorsa l'assunzione di 2.500 forze dell'ordine per garantire un po' più di sicurezza al nostro paese. Ad oggi abbiamo visto tanti annunci, ma non abbiamo visto nessun uomo indiviso in più a garantire la sicurezza dei cittadini italiani. Una risposta veloce, Vice Ministro.